L'arrivo di Tunchov a Pescara è ancora possibile. Se la trattativa per l'arrivo del 22enne sembrava arenata, nelle ultime ore il nome del talento Estone è tornato di moda. La mezzala, dopo la parentesi nella cara rese in C, 26 presenze e 3 gol, è tornato alla Spal, club che ne detiene il cartellino. In Serie B, nella scorsa stagione, ha collezionato 23 presenze, mettendo a referto un assist. Il club Spallino ha offerto il rinnovo al giocatore, ma l'idea di poter essere allenato da Zeman, a proposito, si è in attesa ancora del nero sul bianco col Delfino, ha letta e non poco il calciatore. Ai dettagli il trasferimento di Nicolo Squizzato. Il regista dell'Inter, reduce dalla parentesi al Renate, giungerà in riva all'adriatico a titolo definitivo. Ai nero-azzurri il 40% dell'eventuale rivendita futura. Stessa formula per Davide Merola, uomo di fiducia del Boemo, che anche nella prossima stagione vestirà bianco-azzurro. All'Empoli andrà il 30% di una futura rivendita. Il DS Daniele Dell'Icari, missione a Milano, spera di strappare anche qualche altro SIP. Ancora in piedi le trattative che porterebbero al ritorno in Abruzzo degli esterni Milani e Gozzi. Quest'ultimo potrebbe entrare nell'affare Rafià, qualora il tunisino gradisse la destinazione Genoa. Sempre per quanto riguarda le fasce laterali, ad un anno di distanza sembra ancora tornato di moda il nome di Andrea Ghislandi, classe 2002 di proprietà dell'Atalanta. Nelle ultime due stagioni il terzino ha giocato con Turris e Triestina. Per quanto riguarda le cessioni, nelle ultime ore si registrano interessamenti per Ivan Mesic. Il difensore slovacco, diventato titolarissimo con l'avvento di Zeman, è entrato nei radar del Venezia. Ma c'è da battere la concorrenza della Palermo, che aveva già strizzato l'occhio al 22enne. Partirà ufficialmente il 15 luglio invece la stagione in Lega Pro del Pineto. Infatti in quella data è previsto il raduno in sede per staff e giocatori. Intanto sono in dirittura d'arrivo le trattative per portare alla corte del tecnico Daniele Amaolo, Gianluca Germinario in prestito e Gianmarco in grosso, a titolo definitivo dal Pescara.